No, non c'è il fango oggi, oggi il fango no, un mese fa, un amicizio da marzo fino a settembre, un mese fa era tutta un'altra cosa, un mese fa era tutta un'altra cosa, potevi andare ovunque, però adesso e adesso, adesso e adesso, un mese fa, mattinata piena di emozioni, cani, caduta, il test della 29, il 29 nel fossa vuol dire, non la lavo neanche, non la lavo di più, le rubrici tu me la lavo, calto domani è uguale, la prossima volta andiamo con lui, dopo 10 minuti è così di nuovo. Ci facciamo, si ci sta tronda facendo le polverose, cazzo non c'è un lancio qua o qualcosa?